Il mio primo ricordo azzurro è stato quello allo stage con l'Under 15, quando la seconda partita ho fatto il capitano. C'erano i miei genitori a vedermi, è stata un'emozione grandissima che porto ancora nel cuore. Il mio idolo è sempre stato Pirlo, ha vinto un mondiale e sono molto contento di averlo visto, anche se non ci ho potuto giocare insieme, però ho potuto ammirare le sue giocate dalla televisione. La partita più emozionante è stata la finale del 2006, mi ricordo che l'ho guardata a casa con i miei G e con la mia famiglia ed è stato bellissimo quando abbiamo vinto, i rigori, la corsa di grosso, è stato tutto bellissimo. Ho saltato in aria, abbiamo scoppiato i petardi, è stato bello. Il gol azzurro, diciamo che quando Zambrotta ha segnato i mondiali mi sono messo a piangere, non so bene il perché ma mi sono emozionato e mi sono messo a piangere. Grazie.